L'abbiamo già sentito abbastanza scelta, non siamo più disponibili, vogliamo sapere, lui deve dare risposta a domande che i cittadini fanno, non deve fare le compasse con i suoi amici del PD. Ho capito, ma perché si deve fare vedere che lui è la passerella di un PD? Non ho capito perché, non ho capito per quale motivo, io non ho capito per quale motivo, per quale motivo. Non abbiamo nemmeno, nemmeno, noi siamo qua senza niente, vogliamo solo parlare. E' previsto dalla Costituzione, ma in quest'anno c'è un problema. Ma dico, noi da qua possiamo metterci, come ci sono messi i confieri là, ci possiamo. Ma noi ci conosciamo l'ultimo domenico. Lo so, ma ci conoscete, ma noi ci possiamo mettere qua a tirare a Renzi, da quella parte non c'è sta barricario, perché da questa parte ci sono un barricario di polizioni? Dico, ma che siamo, siamo conosciuti. No, dico, ma se io devo dirgli a Renzi una cosa, come che la dico? No, ma non basta, che è spesa, c'è un tocchile, non basta, prego, siamo più vicini. Siamo fuori completamente, grazie. Siamo completamente fuori. No, però, però, dico io, stiamo manifestando, lui che fa? Prende la macchina, proprio. Sì, non ho detto.